Io sono Roberta Ceccotti, vengo da Sisi e insegno traduzione dal francese all'italiano presso mediazione linguistica. Il corso di traduzione dal francese all'italiano è un corso professionalizzante, nel senso che vengono affrontate diverse tipologie testuali di diversi settori, più o meno tecnici. Affrontiamo testi di tipo editoriale, letterario, ma anche testi tecnico-scientifici come ad esempio quelli del settore giuridico, economico e così via. È una materia che insegna ad inserirsi poi nel mondo della traduzione, quindi ad entrare nel mondo del lavoro a livello professionale.